Io l'alleggerei, farei tutto telematicamente. No, non è bene. L'unico, hanno fatto una pratica. Poi lo farei tutto telematico. Anche a me la scheda elettorale. Anche a me la scheda elettorale. Ehm... Ma come lo fai? 100 e 160. Che succede? Mi raccomanda! Ero macinti. La congruente la voga. Ovvero, se l'am contento del tutto. Se è stato un momento. E se la monita e la pesce, vi si fanno una denuncia. Questo è il mio governo. Per me i suoi pregiudatore. E' un buon messaggio. Inanato, i suoi, 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 i suoi. E' un buon messaggio. E' un buon messaggio, i suoi, i suoi! I suoi, i suoi, i suoi, i suoi, i suoi... I suoi, i suoi, i suoi dei suoi i suoi. Allora quest'anno si parla sulla lista del Brexit, fare due... ...e poi parlare... ...la cittadina della retina. ...e anche sulla lista Movimento del Brexit, e due preferenze di un partito del Brexit. Una forza italiana, una forza italiana... ...perché vota alla lista Movimento del Brexit. Quindi un rappresentante di lista della retina, di forza italiana, disse... ...che questa votazione è da annullare. E disse, guarda, non voglio fare discussioni per evitare... ...e poi andiamo a andare a vedere sul manuale. Questa votazione è valida, ma non perché è parata al Movimento del Brexit. ...e qui io rappresento. Ma perché? Ciò della votazione. Ma alla lista Movimento del Brexit. Perché se tu mi sbarri sulla lista Movimento del Brexit... ...e mi metti due preferenze di un partito diverso... ...senza barrare sulla lista... ...per scelta... ...li voto, ma Movimento del Brexit. ...li voto, ma Movimento del Brexit. Al Movimento del Brexit. Al Movimento del Brexit. Al Movimento del Brexit. ...e qui le quali secondo me... ...e qui ci sono un interesse. ...e qui le quali secondo me... ...e qui le quali sono le quali... ...se lo vogliono fare, lo fanno... ...la parola. ...e qui è pubblicso... ...la parola. Tu non mi potevo fare? ...la città, ma... ...lo fanno... ...lo fanno tanto... ...però vi vado... ...non metto riscontrare tanto... ...però non mi potevo... ...la parola... senza scegliere senza scegliere la proprietà raccoglietta la proprietà raccoglietta la proprietà la proprietà le preferenze le preferenze sull'anno ma ho avuto la lista patrana i due preferenze non sapevano la proprietà la proprietà la proprietà Sì, questo è il cartone animato che ti ho mandato. Sì, questo è il cartone animato che ti ho mandato. Sì, questo è il cartone animato. 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 Sì, secondo me si ripete. Sì, si ripete. ma non solo lei. Per esempio, a mezz'altro c'è questo appunto. Perderanno la moneta il valore. Però intanto dopo le vacanze in Grecia te le va a fare perché ti costano poche niente. Perché comunque è un monopoli. Senza l'euro al centro di moneta vendono moneta. Noi, sul nostro territorio, il secondo è possibile essere più grande. Non sono le campanze, ci sono i nostri migranti, non sono le campanze e ci sono le campanze, ci sono i nostri ritori del HARRY. Ma voi l'hanno detto che vogliamo unire tutti quanti per avere un peso nel mondo, ma alla fine no, non ci siamo uniti. Non siamo più di un'unione europea, non siamo più di un'unione europea, non siamo più di un'unione europea, perché è un'unione europea. Ecco sì, hanno fatto solo la banca centrale per il giustizio, per i cittadini, per tutto quanto, per tutto quanto, per i soldi di banca. Tutto privato però. Ma per i soldi di banca al 1%, una banca del 10% di cittadini, la Grecia non è vero. Ma lì in ottima, in ottima, in ottima, in ottima, in ottima. Allora è confermato, la Grecia non ha più bassi migliori. Allora la Russia sicuramente l'aiuterà perché verrà la Russia, che è la sua base nel Mediterraneo. Ma sì, se metterà le radici, la Russia secondo me si salva, a livello economico si salva dopo, se metterà le radici. Perché un anno o due anni che ho dato, non lo ricordo. Ma io a quale se che c'è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì. L'Argentino viaggia con più di 10% di live. Grazie. Se è un altro anno. Si, grazie. E fino a quando abbiamo fatto Bavarotti, abbiamo visto ciò. In Argentinio è un campionato nazionale di calcio, che viene trasmesso sulla rete pubblica, con lo stadio pieno, in rete pubblica. E non puoi fare un tubo dell'acqua quando chiede le mie regole e portarla a chi lo tengo. Ma se lì tu non mi riuscite, sono le campagne. Avevano fatto le prove a portare il pazzo. Se non erro, solamente mi schiaccio il trovo. Un po' frellava, chissà fiscarlo da... ...e che stai facendo vicino. Se non mi trovi un po' più palla, voglio fare la messa. Se non mi hanno mangiato in queste cose... Alessia, che vuoi fare? Non vuoi fare un po' di tante? Non vuoi fare un po' di tante? Ancora una messa, che quant'è? Non vuole stare. Ancora una messa. Il mio peso... Il mio peso pesante. C'è il peso pesante. Di trovo di pede, è un po' di salamezza. Ma si uscite di certo giallo. Se muoviamo tutti giallo di vecchia, voglio perdere la testa di quale... Ci serve un tagliaerba? Ci serve un tagliaerba. Ci serve un tagliaerba. Si, 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 ha ne dire, di loro, di pilavete. E 137 kg, va pensando. Ci serve un tagliaerba? e come vacanze come state situate male 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 quindi vacanze locali vacanze a casa ultralocali vacanze al granatello al granatello ce ne andiamo o alma e patella bici a patella bici non stanno riqualificandatore del greco salvatore salvatore da giugno del 2008 a giugno di quest'anno sono sette anni che ho tolto le sigarette da mezzo con un bacchetto e mezzo di sigaretta al giorno micidiale se non teneve quattro secche a portata di mano come ce l'ho fatta grazie all'aiuto di un medicinale a cura con il chambix tre mesi 50 euro a scatolino una pillola una mattina una sera ti faceva proprio passare la voglia sia psicologica che proprio diciamo a livello di nicotina nei primi 15 giorni puoi continuare a se vuoi puoi continuare a fumare diciamo poi dopo devi solo proseguire con il medicina scatolino